Buonasera a tutti, benvenuto a Padre Giulio, ho visto adesso. Allora grazie Don Ben per tutto quello che fai, io dico sempre Don Ben ma ringraziato soprattutto per quello che non si vede, più per quello che si vede, quindi mi piace farlo pubblicamente. Grazie a tutti voi che partecipate, siamo già a questo terzo incontro, mi sembra che le cose siano andate piuttosto bene. Bene, questa sera i redattori che abbiamo sono come sempre di altissimo livello, tocca a me un po' fare la presentazione, è un momento di preghiera iniziale, iniziamo come bene dalla preghiera, mi permetto di pregare con uno stralcio di un testo famosissimo che tutti voi conoscete, penso una preghiera mariana scritta dal Santo Vescovo Tonino Bello, e quindi cominciamo con questo breve stralcio della preghiera. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Santa Maria Vergine della Sera, Madre dell'ora in cui si fa ritorno a casa, e si assapora la gioia di sentirsi accolti da qualcuno, e si vive alla letizia indicibile di sedersi a cena con gli altri, facci il regalo della comunione. Te lo chiediamo per la nostra Chiesa, che non sembra estranea neanche essa alle lusinghe della frammentazione, del parroquialismo e delle chiusure nei perimetri segnati dall'ombra del campanile. Te lo chiediamo per la nostra città, che spesso lo spirito di parte riduce così tanto a terra contesa che a volte sembra diventare terra di nessuno. Te lo chiediamo per le nostre famiglie, perché il dialogo, l'amore crucifisso, la frazione serena degli affetti domestici, la rendono luogo privilegiato di crescita cristiana e civile. Te lo chiediamo per tutti noi, perché lontani dalle scomuniche dell'egoismo, dell'isolamento, possiamo sempre stare dalla parte della vita, là dove essa nasce, cresce e muore. Te lo chiediamo per il mondo intero, perché la solidarietà tra i popoli non sia vissuta più come uno dei tanti impegni morali, ma venga riscoperta come l'unico imperativo etico su cui fondare l'umana convivenza. E i poveri possono assidersi con pari dignità alla mensa di tutti e la pace diventi traguardo dei nostri impegni quotidiani. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, ho pensato di pregare con questo breve stralcio di questo testo che immagino moltissimi di voi conoscono, perché il primo nostro relatore, che ringrazio, il professor Luigi Bruni, è un esperto, vorrei dire, più che di economia, più che di storico del pensiero economico, più che di filosofia, più che di teologia, è un esperto proprio di comunione. Un esperto di comunione, no? Ecco, lo ringrazio perché se dovesse presentarlo compiutamente andrebbe via tutta la serata. Tutti un po' lo conosciamo, un economista, un accademico, un giornalista, un saggista, uno storico del pensiero economico, interessi in filosofia, interessi in teologia, esperto di quello che si chiama l'economia di comunione, del quale magari lui farà qualche cenno, dell'economia civile, scrive su tante, diciamo, nostre riviste. Se non ricordo male, non vorrei sbagliarmi, con Zamagni ha fondato il SEC, la scuola di economia civile. Insomma, visiting professor in tante università, insomma, professor Lallumus, ecco, lo ringrazio per aver accettato di partecipare. Vi voglio lasciare subito la parola, ma soprattutto lo ringrazio per questo spirito di comunione nella Chiesa, Fuori della Chiesa, di cui lui è, vorrei dire, protagonista e che ci stimola veramente alla sempre nuova conversione. Questa è una cosa che vorrei dire. Lei, con il suo passione che mette, ci stimola veramente alla sempre nuova conversione. Oggi ci parlerà un po' del tema, la meditazione. Siamo debitori gli uni degli altri, mi sembra un tema anche prettamente biblico. E la ringrazio, le do volentieri la parola. Grazie a lei per questa bella presentazione. Grazie per l'invito. Spero che si senta, perché in questo tempo di Zoom si sente? Perfettamente. Benissimo. Sì, sì, perché in questo anno ormai siamo tutti dipendenti dalle linee, da fibre e le cose varie, ma quando funziona siamo tutti contenti. Quindi davvero grazie anche di questa opportunità. Io, sì, diciamo, mi sono occupato, mi occupo di comunione, di economia, ma questo non vuol dire che, per il fatto che me ne occupo e che ho avuto modo di parlarne, di scrivere da 23 anni, mi occupo, sono responsabile dell'economia di comunione, eccetera, che sia davvero un grande esperto di comunione. Insomma, la comunione è un bene d'esperienza, come si dice, se ne può parlare, ma bisogna poi essere capace di viverla. È lì che c'è il vero test della comunione, che è qualcosa di talmente esistenziale che, appunto, che l'immagine della comunione è un bambino, è il verbo che diventa carne. Quindi, così, allora io, diciamo, ho pensato di fare questa breve mediazione, diciamo, in questi minuti, partendo un po' da questo titolo, siamo debitori di uni gli altri, che chiaramente è una grande frase che rimanda non solo alla scrittura, ma a tante parole, a tante realtà del Nuovo e dell'Antico Testamento, della Chiesa e della vita. Allora, qui c'è la parola debito, che è una parola abbastanza complicata, nel senso che noi sappiamo che è una parola usata dalla teologia fin da Paolo, che troviamo anche nell'Antico Testamento, in varie forme, non solo perché si parla molto di debiti, dei debitori, dell'interesse, dell'usura, del giubileo, che è soprattutto un grande evento di liberazione dei debitori, ma anche perché il tema della remissione del debito è qualcosa che attraversa tutta la teologia ebraico-cristiana, è dentro il Padre Nostro, che l'abbiamo modificato, ma non nel debito, di rimettere a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E quindi è una parola importante, però è anche una parola dell'economia, ed è anche una parola complicata dell'economia, perché attorno al debito e alla colpa, perché sappiamo che in alcune lingue l'olandese e il tedesco sono la stessa parola, schuld, significa debito e colpa. Abbiamo anche, l'economia ha costruito anche un ragionamento complicato, complesso, cioè i debiti rendevano schiavi, i debiti portavano spesso la bancarotta, il debito è stata anche una malattia dell'economia, che poi provvisamente negli ultimi decenni è diventato una virtù, con l'indebitamento, eccetera. Quindi parlare di debito è sempre una parola ambivalente, una parola complessa. Io, ad esempio, una parte del mio lavoro in questi ultimi anni è consistita nel cercare di liberare un po' la, diciamo, liberare la spiritualità cristiana da categorie troppo economiche, che secondo me l'attraversamento della, cioè l'incontro fra l'economia e la teologia non ha fatto bene né all'economia né alla teologia, perché leggere il rapporto con Dio in termini di debiti e crediti e leggere la stessa incarnazione, morte e risurrezione del Cristo come pagamenti di debiti che l'umanità aveva accumulato, che il Padre voleva come creditore, diciamo, saldare, non ha aiutato molto né a capire come funziona, secondo me, la vita cristiana, né a capire il mistero dell'incarnazione. Quindi prendiamoci queste parole, debitori e debiti, le collochiamo all'interno dell'incidica del Papa Fratelli Tutti, dove il significato è chiaramente molto diverso, però teniamo sempre presente che tutte le volte che si utilizza l'economia per spiegare la fede, c'è qualche operazione, c'è sempre una dimensione complessa, ma dico solo perché, poi insomma non è il tempo né il luogo per fare una conferenza su questo, però il problema è che l'economia è per sua natura una faccenda, diciamo, di dare e di ricevere. Le prime scritture contabili nel Medioevo nascono con dare et avere, che erano le primissime forme di contabilità nel 200 dei mercanti fiorentini. Dare e avere fa parte della struttura basilare di qualsiasi forma di commercio, di scambio, di doubt, des. E quindi tutte le volte che abbiamo letto il mistero, il messaggio religioso, utilizzando questo tipo di categoria economica, dove c'è un debitore, dove c'è un creditore, dove c'è qualcuno che ti cancella i debiti perché li avevi prima, chiaramente noi stiamo dimenticando una dimensione fondamentale del cristianesimo, della Bibbia, che è la gratuità. Possiamo anche immaginare un'economia della gratuità, ma è molto difficile perché l'economia non funziona solo con la gratuità. Basta pensare noi che lavoriamo, ci vuole anche un stipendio. E quindi utilizziamole queste categorie, debito, credito, ma mettiamoci sempre una nota a piedi pagina dicendo attenzione per l'uso, cioè precauzioni per l'uso, perché in genere hanno condotto su strade che non ci hanno sempre aiutato. Invece io volevo dire, partendo da, appunto, riflettendo su queste encicliche che chiaramente è un grande dono che il Papa ha fatto a tutti noi, alla Chiesa e all'umanità, possiamo dire qualcosa di più su queste grandi tematiche che il Papa mette a centro della sua enciclica, lasciando un attimo da parte ora i debiti e i debitori, che chiaramente lì vengono applicati, queste categorie vengono applicate ad un contesto ben diverso da quello commerciale o da quello addirittura bancario, creditizio. e volevo dire due battute davvero, perché il tempo vola, su quello che secondo me è il messaggio principale di queste encicliche a Fratelli Tutti. Chiaramente dal mio punto di vista, che è un punto di vista, come tutti i punti di vista, particolare, parziale, quindi partigiano, nel senso che ho a cuore delle faccende, mi occupo da tanti anni di povertà, di sviluppo, di ingiustizie, quindi il mondo lo guardo molto dalla prospettiva di Lazzaro, non quella di Enrico Pulone, e quindi chiaramente mi hanno colpito alcune cose di questa enciclica che cerco di dirvi in pochi minuti. Innanzitutto, il titolo dell'enciclica è già complesso, cioè non è facile parlare di fraternità, non è facile per nessuno, non è neanche facile per la Chiesa, perché fraternità è una parola complicata, nel senso che il nome stesso in italiano e in tante altre lingue rimanda al rapporto tra fratelli, fratres, e quindi non è automatico includerci anche il rapporto tra sorelle, voi sapete che c'è stata tutta una polemica che secondo me in parte si spiega anche, perché si poteva fare uno sforzo, a meno di cercare un titolo un pochettino, anche se poi il contenuto non è assolutamente problematico, ma il titolo in parte lo è, perché fraternità è una parola, cioè diciamo la prima, cioè l'imperfezione semantica della fraternità è una delle molte vulnerabilità della fraternità. La fraternità è una parola difficile, non fosse altro, poi dico qualcosa su questo, su come è usata nella Bibbia questa parola, ma comunque anche nel linguaggio ordinario, cioè noi abbiamo troppe, le parole sono troppo cariche di ferite per far finta che siano neutrali, perché il linguaggio incorpora dolore, violenza di millenni, e quindi ogni volta che c'è su una parola bisogna sapere che dire quella parola ci sono, è come se fosse la punta di un iceberg, sotto l'iceberg bisogna guardarci ogni tanto. Anche perché poi, su questo punto, se uno va a guardare che cosa accade nelle fraternità vere, chi si prende cura delle vittime lungo le nostre strade che portano a Gerico, ci accorgiamo che molte, moltissime di queste persone sono donne. Se guardiamo che cosa accade nelle case di cura, nelle case di riposo, negli ospedali, nei capezzali delle notti, delle agonie, troviamo molte donne, sono lì a prendersi cura di noi. Sotto la croce, nell'atto di fraternità più grande, c'erano donne, e furono le donne che andarono ad ungere il corpo del Signore nel sabato santo, e donne che continuano ad ungere i nostri corpi nei sabati santi della vita. Due donne, due sorelle accoltero Gesù a Betania, una vedova ospitò Elia nella sua casa e donò al profeta l'ultimo pugno di farina, l'ultimo goccio d'olio, un'altra donna, anonima, versò l'olio profumato sui piedi del Signore, un olio che valeva dieci volte di più del prezzo del tradimento dell'economo, Giuda, 30 denari, il 300, che non capì Giuda, l'economo, e non capisce questo spreco e continua a rimproverare l'eccedenza non efficiente della fraternità. E non è da escludere, secondo me, come ho detto nel mio commento, su avvenire, che sia stata una donna a scrivere, o almeno a cantarlo mille volte, lo splendido salmo della fraternità, quando forse in una notte di Pasqua una madre guardò i suoi figli riuniti attorno alla tavola e le fiorine al cuore il grande canto del Salmo 133, che dice, come sappiamo, o quanto è bello e giocondo che i fratelli si erano insieme. E poi, sempre ricordarci, visto che appunto Francesco ha scelto questo nome così significativo, che l'altro nome di Francesco è Chiara. Poi, la seconda difficoltà si trova dentro la Bibbia. Abele è il primo fratello ed è il primo assassinato da un altro fratello. Giacobbe e Esau, fratelli, lottano, combattono, si separano. Leia e Rachele, sorelle rivali. Iefte, cacciato via dei fratellastri e la tremenda violenza di Amnon su Tamar, sua sorella, sorellastra, fino alle tristissime parole del fratello, del figlio prodigo. Per dirci la Bibbia che la fraternità del sangue non basta. Per quanto è grande e spesso anche meravigliosa, non è sufficiente per capire l'umanesimo biblico, per capire l'alleanza e la fraternità universale, questa parola meravigliosa. Allora, la Bibbia per dirci che la fraternità che ha cuore non è quella del sangue, ci mette la fraternità naturale, ce ne mostra l'insufficienza. e anche noi sappiamo che non si resta fratelli e sorelle per tutta la vita se ad un certo punto quel legame del sangue e della carne non diventa legame nello spirito e non rinasciamo in questo spirito. Papa Francesco ha affidato quasi interamente la fondazione biblica di questa enciclica alla parabola del buon samaritano del Vangelo di Luca una delle parabole forse più belle e straordinarie di tutta la di tutta la Bibbia. Anche qui io volevo parlare di questa parabola per parlare di debiti e di debitori perché è una bellissima nei cinque minuti che mi restano è una bellissima chiave di lettura per capire che cosa sono i debiti e i debitori secondo il cristianesimo e la scelta per dirci una cosa la scelta anche qui con una decisione in parte discutibile e anche parziale perché il buon samaritano è un'etica dell'amore è un'etica della prossimità ma non è immediato che sia un'etica della fraternità perché non c'è un legame e come la fraternità è un rapporto è una reciprocità è una forma di relazione il samaritano è un atto di una persona verso un'altra ma non c'è la risposta della vittima verso il samaritano quindi al Papa stava talmente a cuore questo messaggio da prendere una parabola in qualche modo imperfetta potrebbe prendere altri passi per parlare di fraternità tra cui l'amore scambievole e il comandamento nuovo e ha scelto invece questa domanda che risponde a chi è il mio prossimo questa parabola e non chi è il mio fratello nel senso quindi ha fatto una scelta forte perché per dire essenzialmente una cosa che il prossimo il fratello nel Vangelo non è il vicino non è colui che abita vicino a me che come dice il Papa la persona meno vicina è quella che si ferma il samaritano che era uno scomunicato un forestiero un nemico uno straniero degli ebrei i due che passano prima i sacerdoti delle vita erano molto più vicini dal punto di vista religioso etnico assistenziale perché il tempio si occupava del welfare in quel tempo quindi i vicini non diventano prossimo chi è il mio prossimo alla domanda dello scriva invece diventa prossimo un lontano quindi questo grande messaggio della parabola la fraternità non ha nulla a che fare con prima gli americani prima gli italiani prima è la vittima di qualsiasi popolo di qualsiasi condizione essa sia ciò che crea il legame di fraternità è trovarsi nella condizione di vittima è il mio occuparmene prendermene pure ecco perché poi attorno a questa parabola il Papa costruisce tutto il suo ragionamento bellissimo sugli immigrati sui migranti anche sul populismo cioè la differenza tra il popolo e il populismo il populismo il populista è chiuso il popolo per interessi privati il popolo invece è una categoria teologica molto importante che è un luogo dove si esprime la presenza dello spirito e di Dio quindi questo grande messaggio che poi coincide anche con l'idea di un economista importante del nostro tempo che si chiama Amartya Sen che è un economista laico indiano non cristiano che prende questa parabola del buon samaritano per fondarci un'idea di giustizia quella che come lui dice come dice Amartya Sen il dovere verso i prossimi non è confinato soltanto a coloro che abitano accanto a noi la fraternità la fraternità non ha bisogno dell'essere nella stessa comunità nella stessa città nella stessa nazione tanto che il Papa dice come voi ricorderete che quei quei gruppi quei noi che non sono aperti ai lontani diventano delle forme di egoismo collettivo e questo è un tema molto forte quindi la scelta di questo di questa parabola è per dire che non non c'è nessun noi buono che non sia aperto a lontano i noi tra vicini i noi tra simili i noi tra uguali i noi tra con cittadini e basta sono delle gabbie che uccidono la fraternità il Papa l'ha detto con una grande come dice lui il noi diventa una forma idealizzata di egoismo la numero 89 bene il tempo praticamente lo sto esaurendo quindi volevo finire con voi sapete che il Papa a proposito di debito e debitori parla dice nel verso la fine del 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 encitica il numero 263 che è finita definitivamente nella Chiesa la stagione della pena di morte cioè non è che fosse iniziata però insomma è un'esplicita dichiarazione del magistero ordinario che la pena di morte è contraria al messaggio del cristianesimo dice in modo molto poco è inammissibile 263 quindi se perché 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 se Dio impedì con il suo segno che Caino il primo fratello e il primo fratricida fosse a sua volta ucciso in quanto assassino allora nessuno tocchi Caino è un segno proprio di ogni civiltà della fraternità ed è bello che lui citi spesso il Papa in questa enciclica il il grande imam Ahmad Al-Tayeb con cui fece nel 2019 questo patto di fraternità questo incontro importante che lui cita più volte dell'enciclica perché proprio nel Corano c'è un bellissimo passaggio su questo su Caino Abele uccidere cioè che nessun debito è così grande da meritare la morte siamo debitori di tutto ma non della vita possiamo essere allora perché è importante perché come voi sapete nella sura 5 verso 28 nel Corano c'è una versione diversa di Caino e Abele rispetto a quella biblica nostra perché nella Bibbia breco cristiana come sappiamo Caino e Abele non parlano vanno insieme ai campi e torna solo Caino e risponde a Dio e gli chiede dove è tuo fratello risponde dicendo non sono io il custode di mio fratello Shomer non sono io lo Shomer di mio fratello nel Corano i due fratelli nei campi parlano è molto bello perché dice Abele a suo fratello che intuisce che ha uno sguardo omicida e gli dice Abele a Caino anche se tu userai la tua mano per uccidermi io non userò la mia mano per uccidere te quindi Abele diventa nel Corano il primo dei non violenti colui che muore per non diventare assassino quindi e se il primo omicidio fu un fratricidio ogni omicidio è un fratricidio è un fratricidio concludo concludo allora tornando a questo grande immagine di Caino Abele che è interessante perché a proposito di debito debitori crediti e del e del dono che è il grande tema rapporto debito dono che non è il condono ma è il perdono che che è l'opposto del condono noi sappiamo che il primo patricidio della storia nasce per un dono rifiutato che Caino faceva i doni a Dio e Dio non li voleva non li gradiva ma ne gradiva quelli di Abele cioè il dono è talmente serio da generare omicidi ecco perché il dono la gratuità non è la faccenda così marginale della filantropia degli sponsor no il dono è al cuore della fraternità e del patricidio noi sappiamo che una delle parole più usate dai profeti per dire chi sono l'autocoscienza del profeta nella Bibbia è shomer che è la stessa parola di Caino che non è shomer non sono custode sentinella vuol dire ricorderete tutti il bellissimo canto shomer di Isaia 21 sentinella quanto manca la giorno quanto dura la notte shomer sentinella quanto manca perché è interessante che il profeta si presenta come shomer Caino dice non sono custode il profeta dice io sono custode e quindi il profeta di fronte alla domanda dov'è il tuo fratello risponderebbe sono io il custode domanda a me sono responsabile di mio fratello sono il custode allora chiaramente Papa Francesco è amico e fratello dei profeti biblici e insieme a loro continua a custodire Abele per cercare di salvarlo ogni giorno dal gesto di Caino suo fratello ma devo dirvi questo come piccolo contributo a questa realizzazione la ringrazio moltissimo mi permetto di dire se lei ha messo ancora qualche minuto da dedicarci possiamo sforare anche altri cinque minuti se lei ha altri concetti da volerci donare noi siamo contenti però non vogliamo abusare del suo tempo no 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 posso ho detto poco sul tema del debito dei debitori se volete posso approfondire qualcosa su questo il tempo della volontà di tutti lo vogliamo no perché diciamo queste tematiche se chi di voi a parte lei padre che direttore queste cose le conosce tutti i giorni ma questo tema del debito effettivamente è una faccenda complicata anche se poi tutte le volte che si prova a toccare questo argomento io la faccio spesso a suo avvenire mi arrivano sempre lettere di cattolici di teologi che dicono ma lei mette in dubbio la teologia della croce eccetera e io continuo a dire che non è così perché in realtà la lettura della morte e risurrezione di Gesù come debito pagato è già una teologia è già una lettura di quella roba lì che comincia nei Vangeli ma che ha diciamo inevitabilmente una 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 parzialità cioè è un modo come tutti sappiamo di di leggere di leggere quella 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 faccenda cioè quell'evento che è un evento che viene prima della lettura teologica no? cioè poi è stato letto in vari modi io credo che che noi dovremmo di più utilizzare le categorie del dono e della gratuità e meno quelle dello scambio del commercio e del debito e del credito per interpretare che cosa è accaduto in quella in quel in quel momento così decisivo della storia dell'umanità che è stata la morte e la risurrezione del del Cristo quindi ecco perché io che mi occupo di di economia e ho e ho cercato insomma di fare anche un lavoro un po' teologico su su queste tematiche cioè sul sul linguaggio economico dentro dentro la Bibbia e sul linguaggio teologico dentro l'economia che sono due cose anche anche interessanti cerco di dimostrare i limiti che questa che questa che questa lettura ad esempio il Papa nel numero 35 come sappiamo parlando della pandemia dice che un così grande dolore non sia inutile che facciamo un salto verso un nuovo modo di vivere e scopriamo una volta per tutte che abbiamo bisogno e siamo debitori gli uni degli altri affinché l'umanità rinasca con tutti con tutti i volti tutte le mani tutte le voci al di là delle frontiere che abbiamo creato chiaramente qui debitori gli uni degli altri non la metafora finanziaria economica è molto cioè deve essere molto debole perché chiaramente il Papa non fa riferimento a un linguaggio economico finanziario in questo ma usa debitori nel senso siate solo debitori dell'amore scambievole come dice Paolo cioè l'unico debito sia quello dell'amore scambievole e non un debito finanziario però che cosa è successo e poi concludo nella storia dell'Occidente che noi abbiamo abbiamo letto il debito come colpa abbiamo gestito le colpe per troppi secoli non sempre con la misericordia non non sempre oggi mi diceva un mio amico che che la cui figlia fa la prima confessione che deve confessare la bambina gli ha detto ma fa che cosa devo che peccati devo confessare io sono dieci anni no e dice la marmellata le cose sì però capite che questo tema che questo tema che del del debito se non è inteso bene produce un'umanità che non fa prima l'esperienza dell'essere amati dell'essere liberati ma che vive che si porta dietro una perenne sensazione di imperfezione e di colpa che non aiuta nessuno né le persone né l'idea di Dio che c'è dietro quindi a me piace leggere questa frase del Papa per questo valore complicata in un registro non finanziario non economico non commerciale perché tutte le volte che noi applichiamo a Dio l'immagine del debitore e del creditore ci ci impantaniamo in faccende in visione di Dio molto molto limitate molto molto pericolose quindi leggiamolo come con Paolo siate debitori soltanto gli uni degli altri dell'amore scambievole l'unico debito fra voi sia l'amore scambievole e allora mi piace allora diventa una metafora che non ci riduce Dio ma ce lo fa diventare sempre più vicino a quella immagine innovativa e meravigliosa che ci ha dato Gesù di un Dio che è amore di un Dio che non fa i conti non è un commerciante non è un commercialista che mette con la partita doppia dare a bere come dicevano i mercanti medievali ma che ragiona in un modo completamente diverso cioè che il figlio è morto per noi non perché dovesse pagare qualche debito accumulato ma semplicemente perché come come solo amore quindi questo volevo volevo dirvi insomma se ci fosse una domanda posso rispondere ma non voglio togliere tempo a professore Albanese che certamente delle cose molto belle da dirci una domanda anche il rappresentante di tutti la possiamo prendere grazie poi diamo la parola a padre Giulio la domanda è scritta nella chat perché i microfoni sono disattivati quindi lo diciamo a tutti leggiamola non la trovo però aspetta no no dicevo di scriverle nella chat i microfoni sono disattivati sono stati colti di sorpresa oppure è stato così chiaro il professore che non c'è no no poi la gente anzi è anche bello che uno che ascolta ascolta non si mette a fare domande quindi si capisce insomma no magari siamo tutti tutti molto contenti di ascoltare di ascoltare Paralbenese che anche questo è anche un linguaggio ecco ripassiamo la parola senza prima averla tanto ringraziata mi permetto di non dico di interpretare ma di riassumere qualche cosa che mi ha colpito spero possa contribuire per tutti in fondo vorrei quasi dire che questa parola così difficile prossimo io dico sempre che in italiano è superlativo di vicino fondamentalmente il prossimo non esiste io faccio un passo verso qualcuno lui diventa il mio prossimo vicino lontano come diceva lei un po' la stessa cosa ecco siamo tutti chiamati a fare un passo gli uni verso gli altri sono stato molto contento di questo suo diciamo così riferimento al fenomeno migratorio che non è affatto un'emergenza ma un fatto contemporaneo quotidiano quotidiano e la ringrazio perché ci ha fatto capire che spero di interpretare bene che il fenomeno migratorio non è affatto un esodo biblico come si dice in maniera un po' secondo me di oggettiva io amo definirlo una epifania è una manifestazione Dio ci sta parlando ed è anche forse un desiderio di fraternità ecco il fenomeno migratorio è un desiderio di fraternità no che supera ogni barriera quindi è un'illusione è un'illusione fermare questo fenomeno perché è Dio che ci sta parlando ed è un desiderio di fraternità che non si può fermare vorrei dire quasi una vocazione e la ringrazio anche perché ci ha fatto vedere questa problematica dalla parte delle vittime dalla parte delle vittime no e questo la chiesa dobbiamo migliorare in questo noi dobbiamo vedere i problemi dalla parte delle vittime no e forse la vittima non è soltanto bene anche io vorrei dire senza forse la vittima anche Caino no vittima di se stesso e vittima diciamo di un'economia che non è quella del dono ma proprio quella del debito e del credit la ringrazio perché ci ha fatto vedere questo dalla parte delle vittime e questo non è scontato non è scontato ed è la visione del Signore il Signore vede il mondo dalla parte delle vittime la ringrazio proprio di cuore grazie a tutti per la professore posso farle una domanda io eccolo sì sì certo da casco blu di Dio lei giustamente ha messo in rilievo in evidenza il fatto che per esempio nella cultura occidentale il debito è alla prova dei fatti sinonimo di colpa dunque in sostanza coloro che non saldano il debito sono colpevoli e questo è un dato di fatto è un qualcosa che appartiene al nostro patrimonio culturale il problema di fondo è che se guardiamo a quello che oggi succede nelle periferie del mondo ma direi in fondo anche a casa nostra a seguito della speculazione finanziaria della finanziarizzazione del debito intendo dire il problema di fondo è che coloro che sono davvero colpevoli oggi sono coloro che hanno prestato i denari e è vessatorio per cui è inutile nasconderselo c'è tanta umanità dolente nelle periferie del mondo su cui ricade questa spada di Damocle del debito un debito che poi a pensarci bene hanno restituito addirittura due tre quattro cinque volte purtroppo non riescono a stare dietro al sistema diabolico del pagamento degli interessi per cui la questione di fondo è che in effetti tentando di operare un'ermene su quello che avviene oggi sul palcoscenico della storia la sensazione è che sia avvenuto un vero e proprio capovolgimento i veri colpevoli oggi di questo debito sono coloro che lo esigono io non so se lei è d'accordo se questa mia interpretazione è troppo sindacale no 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 questo è importante perché grazie intanto perché noi sappiamo che tutta la tutta la tradizione biblica che è andata avanti almeno fino fino al 1300 in pieno medioevo quando poi cominciò a cambiare un po' l'atteggiamento condannava condannava il prestatore a interesse non condannava soltanto il debito cioè il debitore era in genere condannato dal dal sistema giuridico dal sistema commerciale nel senso ma non ma non dalla non dal dalla religione al punto che ogni sette anni il grande umanesimo biblico liberava i debitori diciamo gli stiavi per debito perché l'unica forma di stiavitù che c'era in Israele era stiavitù per debito e si sentiva in quell'umanesimo anche perché l'avevano imparato a Babilonia dove durante il grande esilio dove gli ebrei vedevano le conseguenze dell'economia finanziaria come stiavitù dei debitori loro dissero noi siamo abbiamo un dio diverso e quindi da noi non si presta interesse e i debitori che finiscono stiavi ogni sette anni vengono liberati perché era un modo concreto per dire che il dio degli ebrei era un dio era il dio vero era un dio diverso che cosa quindi per tutto il medioevo la condanna dell'usura era un meccanismo per evitare la stiavitù dei debitori era per evitare dei rapporti sbagliati tra le persone perché da economista diciamo uno perché come si spiega quel divieto di usura si spiega come il divieto di rendita cioè di qualcuno che ha un potere senza lavorare contro le persone imponendo un pagamento sul tempo un pagamento perché semplicemente tu hai qualcosa che l'altro non ha che si chiama denaro e quindi la condanna dell'usura è una condanna della rendita cioè dei potenti che fanno rendite senza senza avere un un titolo legittimo per creare valore allora io credo che noi siamo stati troppo veloci a dimenticarci queste condanne dell'usura perché ad un certo punto anche io lavoro su queste cose cioè ad un certo punto per una per una troppo semplice un troppo semplice entusiasmo per le per le grandi donazioni che i grandi mercanti banchieri usurai facevano alla chiesa del tempo per per la grande magnificenza del che si che si vedeva nelle città medievali per una lettura un po' troppo veloce del del grande ricco usuraio come con l'immagine prima della maddalena e poi di remaggi che erano ricchi ma usavano i loro beni per il Cristo cioè abbiamo diciamo siamo stati troppo veloci a considerare buono il prestito interesse perché è ovvio che c'è qualcosa di buono ovvio che bisognava diciamo complicare quel discorso perché il denaro ha anche una dimensione di merce ma ci siamo dimenticati che il debito l'interesse e la stevitù sono cose molto più grandi dell'economia che dietro al possedere o non possedere il denaro non è come possedere o non possedere un vestito o le scarpe c'è di mezzo molto di più di una merce qualsiasi c'è di mezzo la dignità e la vita stessa e quindi ecco perché io penso che è una riapertura oggi di un dibattito serio su debito interesse usure cioè su queste usure infinite che vengono fatte oggi che nessuno nemmeno restituisce a fine vita perché almeno una volta gli usurai si convertivano per il paradiso e facevano la cappella degli strovegni o facevano il palazzo strozzi e i medici di Firenze ma oggi non c'è nemmeno quello finiscono i paradisi fiscali non è paradiso della regione quelle usure cioè io credo noi dovremmo riaprire di più questo dibattito ma non tanto su un piano morale su un piano anche economico cioè dire guardiamoci un po' un po' di più dentro queste dinamiche degli interessi dei detti e dei crediti che si nascondono faccende secondo me più complesse che non soltanto delle tecniche o delle faccende finanziarie un po' un po' un po' un po'